Troppi, primo film girato da Vadim, Brigitte Bardot diventa un sex symbol mondiale e il non ancora trentenne regista si impone come una star in piena regola, nota almeno quanto i suoi interpreti. Vadim in... Il soffio dello scandalo continuerà a lungo, ma anche Catherine Deneuve o Jane... Ma da dove arriva questo suo gusto per il tutto e subito? È solo frivoletto... ...so... ...incontra il... Abbiamo vissuto davvero senza un soldo e quando dico senza un soldo intendo senza un soldo. Quando perde il padre nel 1937, Vadim ha nove anni. La madre decide di tornare a vivere con i figli in Francia, a Gé, nell'Alta Savoia. Decide di... Per la prima volta un articolo di giornale testimonia che Vadim è nel posto giusto per la sua vita. E' nel posto giusto al momento giusto. Sono certe intuizioni che Vadim gli amici e i figli in Francia, a Gé, nell'Alta Savoia, a Gé, nell'Alta Savoia e le ragazze. Ciao! 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 Grazie a tutti